Ragazzuoli, bentorni sul mio canale, io sono Laser, undicesimo giorno, undicesima sfida dell'evento di Alland 4-4-2, penso sia la sfida più semplice di tutto l'evento, come fare tre stelle. Mi raccomando un'iscrizione e un pollicione in su per non perdervi l'altro tutorial e se vi siete persi gli altri ragazzoli li trovate sul canale. Allora, come fare ragazzuoli, barbarello sul cannone di sinistra, barbarello sul cannone di destra, poi andate qua sulla destra e mettete un barbarello che vi andrà a togliere il cannone là in fondo e poi un barbarello qua davanti al municipio che vi andrà a togliere il gran sorvegliante. Ora, partite col vostro re barbaro qua sulla bandierina. Ragazzi, ricordatevi che il re barbaro ha la palla d'acciaio che è a livello massimo, quindi toglie 9 strutture e poi ha anche i baffi che lo curano man mano che lui colpisce. Come vedete ci sono una fracca di eroi, però sono tutti eroi a livello 1 e a livello 2. Per quanto riguarda gli eroi a livello 1, ovvero la regina viene shottata in due colpi, la campionessa a livello 2 viene shottata in più colpi. In questo caso cosa fate? Col cartellino silenziate le due regine. Importante ragazzi, voi dovete silenziare sempre quell'eroe che non sta colpendo il re barbaro, quindi regina, aspettate tanto lui si ricarica e lui continua a togliere i vari accampamenti e le varie base dei vari eroi. Qua ragazzi non c'è bisogno di silenziare nessuno perché come avete visto, con due colpi la regina ci saluta. Lui continua a distruggere qua senza problemi. Noi ragazzi andiamo da questo lato e mettiamo il nostro gigante su un accampamento qualsiasi. Tanto ragazzi dobbiamo semplicemente togliere un minimo di unità. Come avete visto ragazzi abbiamo tolto anche il cannone. Arrivati a questo punto ragazzi cosa fate? Continuate ovviamente a silenziare gli eroi che non colpiscono il vostro re e contate quante strutture vi rimangono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 abilitate. Appena me ne restano 9 ragazzi sono 3 stelle. 3 stelle abbastanza easy. Come avete visto ragazzi io il gigante l'ho messo in maniera tale che colpisse anche il cannone ma non è necessario. L'importante è che togliete una, due o tre strutture. Detto questo ragazzuoli sfida abbastanza easy. 3 stelle troppo troppo semplici. Aspettiamo la prossima sfida, l'ultima che teoricamente dovrebbe essere molto difficile. Io vi ringrazio per la visione, vi chiedo un pollicione in su per il supporto, un'iscrizione, un'inscrizione, un'inscrizione e un'inscrizione. Ciao!